Principio di incendio a tetto ad un'abitazione situata in via fermi a Favre nella mattinata lunedì 22 gennaio. L'allarme è stato lanciato dai residenti intorno alle 10.30. Le fiamme si sono sviluppate nella canna a fumare e stavano intaccando il sottotetto e il tetto. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Samorizio Canavese e Ivrea, nonché l'autoscala da Torino, che hanno circoscritto e spento le fiamme e proceduto con la messa in sicurezza. Il principio di incendio è stato preso in tempo. I proprietari, appena visto il fumo, avevano già iniziato ad agire in attesa dei vigili del fuoco. Scusate, perché si apre questo cancello qui? Scusate, perché si apre questo cancello, è stato preso in attesa dei vigili del fuoco.